Sussidiarietà orizzontale. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. La Giunta Comunale registra le associazioni e ammette a contributi, iniziative, consulte e altre attività di coinvolgimento e di partecipazione organizzata. Incentivazione e utilizzo delle strutture associative. Il Comune può erogare alle associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa. Vi richiamo l'articolo 12 della legge 242 del 90. Per farlo deve stabilire i criteri per l'assegnazione dei contributi. Quindi lo Statuto prevede come norma di indirizzo questa possibilità, poi si sostanzia in una regolamentazione e in bandi per l'assegnazione di contributi. Altra norma sul volontariato. Il Comune promuove forme di volontariato, collaborazione a progetti, coprogrammazione e coprogettazione, la chiameremo oggi. E vedete programmazione e cooperazione. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso la programmazione di pubblicità e trasparenza avvalendosi delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive, culturali. Questo è il titolo primo, molto generale, che richiama le finalità, le caratteristiche dell'ente. Il titolo secondo entra nell'organizzazione. Attenzione, riguardo al titolo secondo, lo Statuto non può disciplinare in modo diverso le attribuzioni e le competenze degli organi, né le caratteristiche degli organi. Gli organi sono sempre il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco, intesi come organi di governo, organi politici. Quindi, sono questi. Ciò che fa lo Statuto è disciplinare principalmente le funzioni del Consiglio, che è il massimo organo elettivo, e qualche disposizione sulla Giunta e sul Sindaco. Infatti, il Consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione normativa, controllo politico-amministrativo, ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi. Il Consiglio conforma l'azione complessiva dell'ente a pubblicità, trasparenza, legalità, ed è convocato, presieduto e diretto dal Presidente del Consiglio Comunale. O dal Sindaco, perché? Perché nei comuni sotto i 15.000 abitanti, lo vedremo, può essere previsto il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale, altrimenti il ruolo di Presidente lo svolge il Sindaco. E lo Statuto, vedete, richiama questi aspetti. 11 bis. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, stabilisce se per l'intero mandato sarà il Sindaco o il Presidente eletto dall'Assemblea Consiliare a svolgere le funzioni di Presidente. Se viene nominato un Presidente, ci sarà un Vice Presidente, altrimenti la Vice Presidenza la fa il Vice Sindaco, e poi ci sarà un ufficio di Presidenza. È fondamentale il ruolo del Presidente del Consiglio perché ha funzioni di organizzazione delle sedute. E attenzione, funzioni di garanzia della maggioranza e dell'opposizione. Il Presidente del Consiglio viene eletto a scrutinio segreto. Altro aspetto, le votazioni in Consiglio normalmente sono a scrutinio palese, cioè si vede il Consigliere cosa ha votato. Per il Presidente del Consiglio c'è un'eccezione. Scrutinio segreto e non maggioranza semplice, maggioranza assoluta. Vi ricordate quei 16 su 31? Ogni consigliere ha diritto ad esprimere il proprio voto per un solo candidato. Se dopo la prima votazione nessun consigliere ottiene i 16 voti, si fa una seconda votazione di ballottaggio fra i primi due. E allora a quel punto chi prende più voti vince. Successivamente alla nomina del Presidente si nomina il Vice Presidente. Il Presidente dura in carica per tutto il mandato del Consiglio Comunale. Regolamento interno. Altro aspetto importante. Le norme sul funzionamento del Consiglio sono previste da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri. Altra maggioranza qualificata. Non è la regola, ve lo ricordo. Quindi, Presidente del Consiglio eletto a maggioranza assoluta. Regolamento del Consiglio a maggioranza assoluta. Perché? Perché non deve essere solo la maggioranza del momento. Devi cercare di trovare l'appoggio almeno di parte dell'opposizione. Il Consiglio sviluppa la preparazione nell'ambito delle materie e con i poteri indicati dalla legge. Non possono essere previste nuove attribuzioni da parte dello Statuto. Ed ha un generale potere di indirizzo politico-amministrativo. Il Consiglio adotta pochi atti, lo vedremo quando faremo le competenze, limitatamente ad alcuni atti fondamentali. Elezione, composizione, durata in carica, le stabilisce la legge dello Stato. Non può essere lo Statuto. All'interno del Consiglio ci sono i singoli, le persone fisiche, i consiglieri, che hanno dei diritti e delle prerogative. Il primo diritto è quello di iniziativa. C'è la possibilità di proporre delibere, ma anche di formulare interrogazioni, interpellanze. Ricordatevi, il Consiglio è organo di indirizzo, quindi dire che cosa si dovrà fare, e di controllo. L'iniziativa è un indirizzo. Interrogazioni, interpellanze, emozioni è una prerogativa di controllo, che vale sia per la maggioranza, sia per la minoranza. Singolare, magari ve lo accendo, Nell'esercizio delle loro prerogative, i consiglieri comunali usano indifferentemente la lingua italiana o la lingua veneta. Non denominata dialetto veneto, ma lingua veneta. Per cui, in bocca al lupo, al segretario comunale, che dovrà verbalizzare le sedute del Consiglio, anche in lingua veneta. Hanno diritto di ottenere gratuitamente dagli uffici. Questo è il diritto di accesso dei consiglieri. Lo faremo, lo rifaremo, però, per farvi vedere che, se a questo punto iniziate a curiosare, a evidenziare, a sottolineare, all'interno di uno statuto, questo, quello per cui andate a fare un concorso, questi aspetti li troverete nelle disposizioni che poi sembrano solo teoriche, ma in realtà, appunto, le troviamo citate all'interno dello statuto. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio, altrimenti possono decadere dalla carica e hanno un'indenità, prendono un gettone di presenza per ogni presenza alle sedute. Quindi è previsto, ovviamente, al ristoro del tempo che dedicano all'attività politica. Sui consiglieri, anche qui torneremo, c'è il tema di come si cessano dalla carica, si sostituiscono, si possono dimettere, diventano dipendenti pubblici, vanno a fare altra politica da altre parti, muoiono. Insomma, ci sono varie vicende per le quali i consiglieri, oppure non approvano più le decisioni della maggioranza e quindi si dimettano in contrasto con la maggioranza. Allora, ci sono tutta una serie di meccanismi su cessazione e decadenza e la sostituzione del consigliere, che prende il nome di surroga, quindi quando trovate la parola surroga, trovate la disciplina della sostituzione dei consiglieri, che è possibile a meno che non ci siano determinate condizioni. Sempre lo statuto disciplina un momento fondamentale, che è la prima seduta dopo le elezioni. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata dal sindaco. Perché? Perché il presidente del consiglio ancora non c'è. Nella prima seduta ci sono i consiglieri eletti e il sindaco. Quindi il sindaco convoca. Dopodiché, nella prima seduta, la prima cosa che si fa è votare il presidente. In tale seduta, dopo la convalide degli eletti, riceve i nomi dei componenti della giunta comunale. Quindi il sindaco presenta i nomi della giunta. Non vengono votati, la giunta è scelta dal sindaco, il quale presiede la prima seduta. Dopodiché abbiamo l'elezione del presidente, che poi procederà a convocare le successive riunioni attraverso l'ordine del giorno. L'ordine del giorno è la lista, come un po' gli amministratori di condominio fanno quando vi arrivano le convocazioni, in cui si dice che cosa si discuterà. In consiglio si può discutere solo ciò che è stato inserito preventivamente all'ordine del giorno. Vi faccio notare una cosa. Il consiglio è convocato, se ne fanno richiesta, un quinto dei consiglieri in carica. Nel nostro esempio, 7 su 31. Perché? Perché 7 è un numero sufficiente a garantire le minoranze. Quindi se la minoranza vuole discutere del fatto che il sindaco ha rubato, se invece che un quinto si richiedesse la maggioranza assoluta, non ci sarebbe mai, non si riunirebbe mai il consiglio per discutere di un tema scomodo alla maggioranza. Allora c'è una minoranza, il quinto, che può chiedere la convocazione. In questo caso è obbligatoria la convocazione per discutere le questioni proposte. Quindi con un solo quinto si garantiscono le minoranze. E poi tutta una serie di norme su come si svolgono le riunioni, ma che in gran parte sono rinviate al regolamento interno del consiglio. Consiglio che è formato da commissioni consigliari, che sono una sorta di piccoli consigli, cioè gruppi di consiglieri, che rappresentano in proporzione gli stessi partiti politici presenti in consiglio, ma che essendo più snelli, pensate il consiglio di 31 persone, se tutti prendessero la parola, durerebbe ore e ore, se fa...